Usiena Air è il repositorio istituzionale dell'Università di Siena, che raccoglie i prodotti della ricerca per l'invio al sito ministeriale LoginMure e per la loro disseminazione via web. Oggetti del deposito sono sia i metadata descrittivi, sia il full text, ossia il testo completo delle pubblicazioni scientifiche. Nell'archivio è possibile caricare allegati di qualsiasi formato, fino ad una dimensione massima del 512 MB. Per il corretto invio del file da Usiena Air al sito docente è necessario però avere file PDF di dimensioni inferiori ai 10 MB. Nella pagina 4, relativa al caricamento degli allegati, si seleziona il file da caricare. E nella tipologia del file si può scegliere tra il PDF editoriale e il postprint. Il PDF editoriale, in italiano versione digitale editoriale, è la versione finale pubblicata dall'editore con layout editoriale, complessiva di paginazione e marchio editoriale. Il postprint in italiano, versione digitale finale referata, è la boccia finale dell'autore con le correzioni dei revisori. È quindi la versione approvata ed in via di pubblicazione prima del layout editoriale. È possibile caricare in un Sianera in trabe le versioni PDF del full text, selezionando una modalità di accesso diversa in base alla tipologia di testo caricata e a differenti diritti di accesso. Per esempio, si può caricare il postprint ad accesso aperto per la disseminazione della ricerca e il PDF editoriale ad accesso ristretto ad uso amministrativo. È necessario infatti prestare la massima attenzione alle condizioni editoriali sottoscritte per ciascuna versione. Per verificare le condizioni editoriali, UCNR fornisce due box a destra della pagina. Il primo box verifica la presenza della rivista inserita nel deposito delle riviste open access. Il secondo box mostra le policy delle riviste internazionali disponibili sulla banca dati SERP-Romeo. Le policy di accesso sono quelle che definiscono se l'accesso alla consultazione del PDF sarà chiuso o aperto. In caso di accesso chiuso saranno visibili online solo i metatati della pubblicazione, ma non il testo completo del lavoro. In caso di accesso aperto, fortemente consigliato ove consentito, sarà visibile online anche il testo completo del prodotto della ricerca scientifica. Dal menu a tendina si può scegliere l'open access quando l'allegato può essere liberamente consultabile online da parte di tutti, come per esempio i prodotti pubblicati in rivista open access. L'open access con embargo si usa quando l'editore impone un periodo di tempo prima che l'allegato possa essere esposto in accesso aperto. In questo caso si apre il calendario per impostare la data di fine embargo in cui il file viene sbloccato automaticamente dal sistema senza necessità di successivi interventi. La data di inizio della visualizzazione in open access si calcola sommando i mesi previsti dall'embarco alla data di applicazione online del prodotto. La rete di Ateneo si seleziona quando riteniamo che l'allegato possa essere accessibile da chi usa la rete di Ateneo via cavo wireless oppure connessione VPN. Utenti autenticati si può selezionare quando decidiamo che l'allegato possa essere accessibile da tutti gli utenti autorizzati di essere autenticati in un Siena Air con la Unisipass. Infine si seleziona solo gestore archivio quando si decidere che l'allegato sia visibile ai soli coautori che appartengono all'Ateneo, ai gestori dell'anagrafe della ricerca e ai componenti delle commissioni valutative. I metadati bibliografici del prodotto e l'abstract saranno comunque visibili e ricercabili e con il bottone richiedi una copia i lettori interessati potranno mettersi in contatto direttamente con l'autore per la richiesta di una copia personale. La maggior parte degli editori consente di depositare in un repository istituzionale il post-print ad accesso aperto, con o senza un periodo di embarco. Nel caso che tutti i diritti siano stati seduti all'editore, l'accesso al PDF allegato deve essere consentito solo ai gestori dell'archivio per consentire sia l'invio del PDF al sito docente LoginMiu, sia a usi amministrativi e valutativi della ricerca. Dopo le polisi di accesso va selezionata la tipologia di licenza di distribuzione. Chi indica alcuni aspetti dell'accesso e dell'uso che si consente di fare dell'allegato. Le tipologie di licenza sono corrispondenti alle polisi di accesso come segue. Pubblico, pubblico senza copyright per le opere che sono disponibili liberamente per la sola lettura, ma non vengono forniti ulteriori dettagli su eventuali altri utilizzi. Pubblico, pubblico con copyright per segnalare il consenso della visibilità dell'allegato in un schiena ER mantenendo i diritti d'autore concordati con l'editore. Pubblico dominio per indicare i prodotti che non sono più protetti dal diritto d'autore e sono quindi liberamente scaricabili ed usufruibili. Non pubblico, accesso privato ristretto, si usa per dichiarare che non si consente la visibilità pubblica dell'allegato. In questo caso si deve scegliere come polisi di accesso solo gestori d'archivio, in modo che l'allegato rimane visibile solo all'autore, ai coautori del prodotto e all'amministratore del sistema. Sarà comunque inviato a login mirror se lo si desidera. Creative Commons sono licenze tramite cui l'autore ha già scelto di sconcedere varie modalità di accesso o di ritualizio del proprio prodotto. In fase di inserimento si apre un box che permette di selezionare i diritti concessi rispondendo alle domande. Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Sì, no. Permetti che la tua opera venga modificata? Sì. Condividi allo stesso modo? No. Cliccando sul bottone Selli la licenza, il sistema propone è la corrispondente in licenza Creative Commons, che soddisfa i criteri inseriti. DRM non definito si usa in caso di dubbio sulla licenza del prodotto. L'autore dovrà poi decidere se inviare o meno il file al login mirror. Il trasferimento al sito docente si avverrà solo nel caso in che il file allegato sia in formato PDF dotteriale e inferiore a 10 MB. Nel caso di PDF superiore a 10 MB, si consiglia di suddividere il file in più parti tramite appositi software free disponibili online e di procedere di conseguenza al caricamento di tutti i file in successione. Infine, si può aggiungere nella descrizione del file una breve descrizione del contenuto dell'allegato, per esempio articolo principale o tabelle statistiche e delle note che potrebbero surriguardare, per esempio, delle condizioni particolari per l'accesso al testo completo del file. Cliccando su successivo si visualizza un riepilogo delle scelte fate con possibilità di modifica oppure di rimozione. Cliccando invece sul bottone aggiungere un altro file si può inserire un ulteriore allegato. Nella note successiva, a seguito dell'aggiornamento quotidiano del colloquio tra Unisier e LoginMure, l'inserimento o le modifiche verranno recepite anche dal sito docente. Nel caso in cui si rendesse necessario un aggiornamento immediato, è possibile inviare subito il prodotto a LoginMure attraverso l'azione Reinvia sito docente che si trova nel desktop prodotti. Il gruppo di supporto di UCN Air rimane sempre a disposizione per richieste o dubbi relativi alla piattaforma.